Peraltro, sempre parlando di scienza, ci sono diversi scienziati che su riviste internazionali, io ne cito alcuni, per esempio Peter McIntyre, direttore del National Center for Immunization Research and Surveillance, che in un articolo sul Medical Journal of Australia ha evidenziato alcune criticità su un provvedimento che ha fatto il governo australiano che si chiama No Job No Pay, che vincola l'erogazione di sussidi economici all'effettuazione delle vaccinazioni. E anche i ricercatori di differenti università negli Stati Uniti, in un articolo il cui ultimo autore è Walter Orstein, per molti anni direttore del programma di vaccinazione degli Stati Uniti presso il Center for Disease Control and Prevention su JAMA Pediatrics, in cui invitavano a valutare con molta attenzione e cautela l'eventuale rafforzamento delle misure coercitive. E anche il BMJ, noto giornale antivaccinista, nei giorni scorsi ha riportato una discussione che c'è stata tra i rappresentanti e la British Medical Association, durante la quale discutevano proprio dei nostri provvedimenti, il provvedimento italiano e francese sull'obbligo vaccinale, riportando i pareri sui determinanti dell'esitazione vaccinale di Andrea Ammon, direttrice del European Center for Disease Prevention and Control, cioè il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, e di Rob Butler, Program Manager dell'Ufficio Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi vede anche gli scienziati, quelli che lei chiama a sproposito, in causa, in una decisione che è di tipo politico, non sono tutti unanimi, anzi al contrario, ci sono molte voci di critiche sull'uso della coercizione e dell'obbligatorietà in una pratica vaccinale, perché di questo si parla. E ritornando all'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche quello mi fece impressione quando lo disse, perché mentre nel nostro paese, come in molti paesi europei, si è sollevata una protesta nei confronti dei famosi trattati, TTIP, del famoso CETA, nessuno era venuto a conoscenza di un trattato che imponeva a tutti i paesi l'obbligatorietà sui vaccini, perché di fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità non dice questo, dà dei goal, degli obiettivi di politica sanitaria, su cui peraltro io personalmente avrei qualcosa da dire, ma semplicemente perché il dubbio è il sale della vita, quindi bisogna sempre chiedersi, farsi le domande e dare delle risposte convincenti. Ma in realtà però l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai detto che bisognava utilizzare la strategia coercitiva. Nell'OMS, nell'NCD, in quell'articolo che riportavo prima, raccomandano l'obbligatorietà vaccinale. Non vi è alcuna evidente associazione tra vaccinazioni obbligatorie, senza altre misure, e l'aumento della copertura vaccinale. Sempre la dottoressa Emmon, direttrice delle CDC, o CDC, come si voglia dire. Ma tornando all'Organizzazione Mondiale della Sanità, io quello che voglio dire è che comunque è un'organizzazione fatta da uomini e come tali questi uomini possono sbagliare. E questo è già successo in un caso che tra l'altro ha visto il nostro paese protagonista, che è il caso del Tamiflu. E lo cito perché addirittura sempre la nota rivista antivaccinista, cioè il British Medical Journal, ha creato una pagina permanente per la storia del Tamiflu. Allora, cosa successe? Successe che nel 2009 l'Organizzazione Mondiale della Sanità classificò come farmaco essenziale contro l'influenza il Tamiflu. In quel momento il livello di allarme proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per quella pandemia si rivelò incauto ed eccessivo. Le sue conseguenze furono enormemente meno gravi rispetto a quelle inizialmente previste, cioè quelle della famosa pandemia. Tuttavia i governi furono costretti, a causa dell'allarme dell'OMS, che quindi sbagliò evidentemente, furono costretti ad acquistare e accumulare in mani quantità di vaccini e farmaci antivirali, rimasti poi in larghissima parte inutilizzati. In Italia, ad esempio, furono acquistate 24 milioni di dosi di vaccino, di cui meno di 900 mila somministrate. Cos'è successo da allora? È successo che recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha declassato il farmaco contro l'influenza o setalmivir, cioè il Tamiflu della Roche, all'interno della lista dei farmaci essenziali, perché una revisione delle prove ha notevolmente ridotto o quasi annullato i vantaggi della sua utilizzazione. Dunque non vaccini che fanno male, ma vaccini che non fanno niente. Addirittura scrivono i ricercatori del BMJ, hanno riassunto i punti essenziali di questa vicenda incredibile, e li hanno riassunti così. L'OMS raccomanda il Tamiflu, ma non ha controllato a fondo i dati del Tamiflu. L'Agenzia Europea del Farmaco ha approvato il Tamiflu, ma non ha esaminato l'intero dataset del Tamiflu. Il CDC e le CDC hanno incoraggiato l'uso e l'accumulo di scorte di Tamiflu, ma non hanno controllato a fondo i dati del Tamiflu. La gran parte della sperimentazione di fase 3 del farmaco non è stata pubblicata a distanza di 10 anni dalla sua conclusione. Nel dicembre 2009 Roche promise di concedere a scienziati indipendenti l'accesso all'intera documentazione della ricerca, i full study reports, ma la compagnia finora non ha mantenuto l'impegno. Il sito del BMJ dedicato al Tamiflu è continuamente aggiornato. Allora, io comunque ho portato anche una copia, se lo volesse vedere, per non dire che sto raccontando cose incredibili. Quindi diciamo sempre che io in questa vita ho imparato una cosa, che chi vuole avere fede, per chi vuole avere fede, quello è il Dio della propria religione. Io credo nel Dio dei cattolici e ho fede in quello. Dopodiché posso avere fiducia, decidere di avere fiducia e decidere di non averla. Questo è quello in base a quello che la mia intelligenza mi porta a capire e reputare. Allora io vorrei commentare con lei delle parole che mi hanno scioccato quando le ho sentite. Sono le parole del Presidente della Società Italiana di Pediatria, intervistato dalla Sette in una puntata dell'1 giugno 2017 sui finanziamenti alla Società Italiana di Pediatria, in cui l'intervistatore faceva notare che questa società aveva ricevuto dei soldi alla Casa Farmaceutica. E rispondeva così, non c'è niente di cui nascondersi o vergognarsi in tutto questo, ha affermato ai microfoni il Presidente della SIP Alberto Villani. Anzi le partnership dovrebbero essere rinvigorite, conflitto di interessi. Per quale motivo un'azienda non dovrebbe contribuire? Promuovere un prodotto non significa promuovere qualcosa che non va. E il discorso sui vaccini non è assolutamente da pensare che sia un business. Ora io dico questo, lei, Ministro, pensi ai genitori che in televisione hanno sentito questa frase, detta dal Presidente della Società Italiana di Pediatria. Ora probabilmente la fibra morale del Presidente è tale per cui egli non ravveda un conflitto di interessi, però io loro assicuro che ci sono tanti altri cittadini in Italia per la cui fibra morale, quello è un grande conflitto di interessi. E preoccupa la nonchalance, la tranquillità con cui questo Presidente ha fatto questa affermazione. E questo lo dico perché, come lei sa, le società farmaceutiche sono, per fortuna, diciamo, costrette a pubblicare i dati in base a un regolamento europeo sui versamenti che fanno a tutti i fortunati ricevitori. I guardi che i dati sono veramente impressionanti. Adesso io ne cito alcuni, per esempio, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, IOM, che supera i 2 milioni di versamenti grazie all'MSD, 1,4 milioni di euro, la Roche 332 mila, la Janssen 149 mila, la Sanofi 123 mila, l'Accademia Nazionale di Medicina di Genova 911 milioni di euro così ripartiti, i Novartis 290 mila, altri 254 mila, la Bayer, insomma, sono tantissimi. Allora, io credo che bisogna fare un atto di onestà intellettuale e domandarsi perché i cittadini hanno così grande sfiducia verso il mondo delle istituzioni, in particolare laddove esiste il mondo della farmaceutica. A me mi hanno bollato come la signora che fa la battaglia medicinali. Io dico che se fosse così non avrei fatto la battaglia per fare curare con i farmaci per l'epatite C tantissimi cittadini che sono rimasti fuori dalla... Quindi non è assolutamente così. Però io dico che nel 2017, quando siamo di fronte a un mercato mondiale dei vaccini che ha un fatturato di 23 miliardi di euro e sento dire dal Presidente della Società Italiana di Pediatria che i vaccini non sono un business, forse per lui no, ma chiaramente per le industrie che li producono a mio avviso lo sono assolutamente. Ora, dal momento che noi questi vaccini li dobbiamo acquistare, io credo che sia importante avere chiaro chi sono i nostri interlocutori dai quali noi stiamo acquistando questi vaccini e dobbiamo avere gli anticorpi di governance sanitaria e farmaceutica per poter capire cosa sta succedendo intorno a noi. Allora, quando si fanno scelte di politica sanitaria, Signora Ministro, è l'agenzia di quel paese che si occupa di concorrenza sul mercato, che da noi è l'antitrust, dà tutta una serie di indicazioni su 100 pagine di indagine e vi dice che dovete fare l'health assessment technology, vi dice che ci sono dei monopolisti sul mercato che per strategie commerciali hanno deciso di produrre solo i farmaci in formulazione plurivalente, vi dice che ci sono eccessi di clausole di riservatezza nei contratti commerciali e che le regioni hanno difficoltà a fare gare che assicurino risparmio di spesa perché non sono conoscenza di quelle informazioni. Quando a fronte di tutto questo lei mi risponde il Ministero fa il Ministero, l'antitrust fa l'antitrust, a me mi cadono le braccia per terra e penso che cadono a chiunque perché questo non è ammissibile e quando sento dire da lei o come da altri suoi colleghi anche se è già immunizzato le rifacciamo il vaccino come se noi non avessimo il pareggio di bilancio in Costituzione mi ricadono le braccia due volte. Allora sinceramente non ci venite a raccontare che dobbiamo chiudere i punti in ascita che hanno 497 porti l'anno non ce n'hanno 500 oppure che dobbiamo chiudere piccoli ospedali che hanno bilanci di 10-15 milioni di euro quando poi con questa allegria siete pronti a buttare euro come se ci li regalassero non ci credo più allora io dico questo quando il collega Gelli dice noi non stiamo intervenendo sull'emergenza ma noi facciamo per il futuro bene collega Gelli allora facevamo una legge se non state intervenendo sull'emergenza facevamo una legge così per il futuro ci preparavamo decidetevi perché nella vostra relazione avete scritto che noi stiamo intervenendo per l'emergenza dicendo tu, onorevole Gelli che hai sbagliato intervenire l'emergenza insomma però vi dovete decidere voi o stiamo intervenendo l'emergenza o no perché se no non si capisce quindi se volevate fare una legge noi eravamo qua eravamo disponibili e tutti questi dati li avremmo esaminati in maniera precisa con tutti i numeri a nostra disposizione siccome così non è stato e anziché fare decreti legge per i morti da inquinamento ambientale per il diabete che farà milioni di vittime di invalidità e lo dicono tutti i report per le malattie alcol correlate per le malattie dal gioco d'azzardo non abbiamo fatto un decreto per tutte queste malattie facciamo un decreto che non interviene sull'unica classe di popolazione 15-39 anni che in questo momento è il rischio non lo facciamo per gestire un'emergenza ma per il futuro potevamo fare una legge insomma detto questo noi voteremo convintamente contro un decreto che è fatto veramente senza alcuna logica dalla testa ai piedi grazie 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 grazie